Salve a tutti, siamo alla lezione numero 26 e parleremo dell'accordo di settima sul secondo grado. A lettria di costruite sul secondo grado delle scale maggiori e minori, è possibile aggiungere una settima e ottenere così un accordo di settima sul secondo grado. In Do maggiore il secondo grado è questo. Aggiungo una settima. In La minore il secondo grado è questo e posso aggiungere una settima. In tonalità maggiore la triade è minore, mentre in tonalità minore la triade è diminuita. I due accordi quindi sono diversi ma hanno la stessa funzione, cioè collegarsi al quinto grado. Hanno però una particolarità. La settima deve essere preparata, cioè deve essere presente nell'accordo precedente e nella stessa voce. Poi dovrà risolvere scendendo per grado congiunto. L'accordo che preparerà la settima potrà essere il primo grado, il terzo con il primo rivolto, il quarto grado e il sesto grado. Vediamo un esempio in Do maggiore. Il terzo grado in 3-6 prepara la settima. La settima è questa. Un altro caso in cui la settima è preparata dal quarto grado. ora in da minore il primo grado prepara la settima adesso che prepara la settima è il sexto grado la numerazione di questo accordo e dei suoi rivolti è 7, 356, 346, 246 con le relative semplificazioni 7, 56, 34, 2 o 246 cioè uguale a quelle della settima del dominante in pratica tutti gli accordi di settima hanno la stessa numerazione di posizione fondamentale e rivolti anche usando i rivolti la settima dovrà essere sempre preparata e risolta nella stessa voce vediamo qualche esempio l'accordo di settima sul secondo grado di modo maggiore è chiamato settima di seconda specie mentre quello sul secondo grado di modo minore è chiamato settima di terza specie entrambi gli accordi sono anche chiamati settime artificiali nelle siglature della musica pop e jazz la settima di seconda specie è chiamata minore settima ad esempio re meno 7 o di min 7 mentre la settima di terza specie è chiamata semi diminuita quando suoniamo una melodia accompagnata la mano sinistra deve riassumere e far intendere l'armonia i prossimi esempi prevedono l'uso delle settime sul secondo grado ora farò un esempio in cui il basso è indicato solamente con i numeri ed è da realizzare tempo mi minore tonalità mi minore tempo quattro quarti questa è la proposta risposta negativa modulazione a sol maggiore l'esercizio seguente è una melodia da accompagnare secondo il modello della prima misura gli accordi sono indicati secondo la siglatura italiana per abituarci anche a questa notazione è un andante in fa maggiore tempo tre quarti l'esercizio seguente l'esercizio seguente il piccolo notturno che vedremo nel prossimo esercizio ha gli accordi indicati secondo la grafia internazionale la prima misura propone il modello di accompagnamento dovremo integrare la melodia nello sviluppo e nel da capo ci sono alcune modulazioni ma le indicazioni sono chiare grazie a tutti 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 L'esercizio seguente è un allegro in stile barocco da completare nell'armonia. I bassi non sono numerati, dovremmo ricavarne gli accordi considerando la parte melodica. Tonalità di sol maggiore, tempo 4 quarti. L'esercizio seguente è un allegro in stile barocco. L'esercizio seguente è un allegro in stile barocco. A volte può fermarsi nell'accordo seguente, spesso una quarta e sesta, ma poi scenderà nell'accordo di dominante. Gli esempi che seguono sono varianti arricchite della cadenza mista quarto, quinto, primo. Sono le cadenze più adatte per stabilire una tonalità che in seguito useremo spesso. il basso sarà sempre uguale. Primo, quarto, quinto, quinto, primo. Prima posizione. Tonica. Su quarto grado, settima di seconda specie. Quattro, sei. Sette. Tonica. Ripeto, prima posizione. Seconda posizione. Terza posizione. Ora la stessa cosa nella tonalità di La minore. Prima posizione. Settima di terza specie in primo rivolto. Quattro, sei. Sette. Tonica. Ripeto, prima posizione. Seconda posizione. Terza posizione. Essendo questo tipo di cadenza la più adatta a confermare una tonalità, consiglio di provarle in tutte le posizioni, in tutte le tonalità maggiori e minori e impararle a memoria. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.